Sei un imprenditore, un libero professionista, un agente di commercio che lavora in Umbria e che combatte tutti i giorni per aumentare clienti e fatturato? Cambia il tuo sistema di comunicazione e otterrai risultati sorprendenti. Progetta insieme a noi il tuo schema vincente. Siamo un'agenzia Umbra che grazie al funnel marketing può aiutarti a aumentare concretamente clienti e fatturato. Immagina se fossero i clienti a venirti a cercare. Sono Leonardo Perini e mi occupo di comunicazione, informazione, new media e sport. Ho seguito negli anni svariati progetti di comunicazione per aziende professionisti. Oggi sono convinto che il funnel marketing faccia veramente la differenza. È un percorso che aiuta le aziende a migliorare la visibilità sul web, raggiungere nuovi clienti in target e più che altro avere risultati concreti e misurabili. Se anche tu hai il problema di aumentare ordine e fatturato, di acquisire clienti in target per il prodotto o servizio che offri, rimanere fermo è l'errore più grande che puoi commettere. La soluzione c'è e si chiama schema vincente attraverso il funnel marketing. Vorrei spiegarti oggi il nostro schema vincente in 11 passaggi. Partiamo dal funnel marketing. Il funnel marketing è il processo che veicola un audience verso un percorso per trasformare una persona sconosciuta in un cliente fedele, pronto ad acquistare e a diventare un ambassador del tuo brand. Il piano d'azione a 11 step parte dall'azienda fino alla vendita, quindi dal punto A fino al punto Z. Si parte con il posizionamento, con la strategia, con la struttura del funnel, con l'esca per attirare clienti, con l'offerta, con il copy dei testi e poi l'utilizzo di ClickFunnel e ActionEthics, che sono due programmi che automatizzano tutto il processo. Infine Facebook come piattaforma e poi il test, il lancio e le KPI per poi arrivare alla vendita. Il posizionamento sono tutte quelle azioni che ti portano ad avere quello che noi chiamiamo obiettivo cliente. Significa partire dall'analisi della tua azienda, individuare il cliente ideale, età, sesso, lavoro, residenza, abitudini, esigenze, come possa aiutarlo e poi chi sono i tuoi concorrenti, quindi chi sono i tuoi competitor, chi sono, che tipo di comunicazione fanno, come sono presenti online, se sono solo online o anche offline e poi infine chi sei tu e chi è la tua azienda. Chi sei e che succede con il tuo prodotto e servizio, cosa fai di diverso rispetto agli altri e che cosa succede se non accedono al tuo prodotto e servizio. Sviluppiamo insieme il tuo schema vincente che ti farà aumentare ordini e fatturato. Immagina se fossero i clienti a venirti a cercare. Contattaci per una consulenza gratuita, compila il form, ti aspettiamo! Grazie a tutti!